Per gli amaretti di Modena ogni chilo di mandorle, 100 grammi di mandorle amare e altrettanto di zucchero. Viene tutto impastato con dei bianchi d'uovo e il profumo della scorza di limone. L'impasto va fatto riposare una mezz'oretta, poi vanno fatte delle formine rotonde, cotte in forno a 160 gradi. Grazie per la visione!